I vigili non possono andare a casa di notte, non esiste, è la precisa accusa del consigliere comunale Gianni Cherchi intervenendo alla prima puntata di Alghero Centro la trasmissione politica alla quale partecipano anche i consiglieri Piras, Sasso e Daga in onda giovedì 25 giugno alle ore 22 sull'emittente algherese TVA. Se l'assenza dei vigili urbani nelle strade di Alghero la sera è dovuta a problemi gestionali, ha sottolineato Cherchi, è bene intervenire subito.